Hola a tutti ragazzi, è il vostro Luca e oggi come state vedendo qui dalla grafica Siamo a simulare una nuova partita Roma-Inter ragazzi, fondamentale per il campionato Già uno scontro tra due big perché ormai l'Inter può rientrare anche nelle big Con l'acquisto di un grandissimo allenatore come Spalletti Ragazzi oggi ovviamente da cuore giallorosso controllerò la Roma Siccome ragazzi ben sapete che Bruno Perez si è infortunato Ho inserito una formazione con un bel 3-4-2-1 Mettendo Pellegrini sull'esterno destro Quindi ragazzi vedremo un po' come andrà a finire questa simulazione Dando subito Nainggolan Nainggolan proviamo un tiro a giro ma non esce Pallone per De Rossi E pallone molto molto alto Ragazzi mi raccomando vi invito subito a lasciare un bel like per il proseguo di questi pronostici E commentate per chi vuole con la prossima partita da dover pronosticare Ovviamente della prossima settimana ragazzi Attenzione però ho ti fatto dire qui un pallone importante per Dzeko Attenzione Dzeko che prova di sinistro Dopo solo 6 minuti il bomber dello scorso anno Il capocannoniere porta a casa già un bel gol per la Roma Di sinistro cannonata sotto la traversa E non ci arriva per pochissimo ragazzi Samir Andanovic Perché davvero guardate qui Poteva prenderla senza problemi Quindi 1-0 della Roma dopo il settimo minuto ragazzi ricordo Difficoltà esperto Giusto per giocarla un po' più diciamo normale questa partita Perché se giocheremo a campione non sarebbe così poi tanto realistica Attenzione per Perisic Attenzione Perisic Se c'entra ma Fazio La stavo bloccando anche con la lingua Perché davvero ragazzi L'ansia è incredibile Attenzione calcio d'angolo per l'Inter Al quindicesimo minuto con Cantreva Che la butta in mezzo Perotti tranquillissimo la butta via C'è Dzeko Che può controllare il pallone Ovviamente è molto pressato E pallone filtrante per Nainggolan Che cerca di ritorno per Pellegrini Quasi un passaggio per gli interisti Attenzione Pellegrini Pellegrini che in mezzo a due riesce ad andare via Pallone per Nainggolan Nainggolan ancora per Pellegrini Non riesce a passare il pallone ragazzi L'idea c'era ma non lo sviluppa Attenzione è Dzeko che recupera Ancora una volta pallone per Nainggolan Pellegrini cerca di controllarla molto bene Per De Rossi De Rossi cerca un varco per Nagar Il Ninja Ragazzi 2-0 per la Roma Con il Ninja Raja Nainggolan Molto voluto nel mercato Dall'Inter ma ovviamente Raja Nainggolan ha solo un cuore E questo cuore è giallorosso Pallone allargato per Cantreva De Rossi di tacco per Nainggolan Nainggolan ancora di tacco per Pellegrini Pellegrini per Dzeko Dzeko prova a cambiare fascia per Kolarov Attenzione Kolarov che la porta avanti Cerca un lancio lungo perotti che arriva Perotti di tacco ancora una volta A Kolarov Ho provato perché come voi ben sapete Kolarov c'è il tiro bello aggressivo Quindi c'è sta Fazio per Borcavalero Attenzione però Fazio era sul Borcavalero Ma non è riuscito a contrastarlo Calcio d'angolo per l'Inter Cerca un trevo sul pallone per Kevin Struttman che allontana Raja Nainggolan prova a controllare il pallone Nainggolan cerca un lancio per Pellegrini che arriva Pellegrini Ai 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 cercato un filtrante molto rischioso per Dzeko Infatti parti contro i piedi dell'Inter con Icardi Che però Ristabilizza l'azione Pellegrini su Icardi va a conquistare il pallone Attenzione per Dzeko che cerca un lancio per Nainggolan Il lancio arriva Nainggolan cerca un lancio per Dzeko Filtrante Attenzione Perotti E qui va bene Pallone molto facile e molto morbido Per Samir Andanovic Ok ragazzi ho potuto inserire El Sharawi A posto di Perotti E Gonalon a posto di De Rossi Giusto per far rinfrescare ragazzi Chi davvero ha dato tanto nella partita di Bergamo Soprattutto ragazzi Credo di conservarmi un cambio Per far entrare De Freyla a posto di Dzeko Adesso vedremo come si mette la partita Attenzione Struttman Per Gonalon che non arriva Per pochissimo L'Inter adesso prova a ripartire con Icardi Che viene subito fermato da un ottimo Manolas Gonalon Per Dzeko Dzeko Per pochissimo Qui poteva fare di più Ma comunque la Roma sta dominando questa partita Io spero che succeda così anche nella realtà Ma dubito fortemente Allora attenzione per Dzeko Struttman attenzione Pallone in avanti per Risharawi Risharawi si inserisce Che cacchia rolla ragazzi Ho provato a sterzare Per buttarla sotto all'incrocio Con l'esterno Però ragazzi ci sono riuscito Pallone in mezzo di Struttman Nainkolan non riesce a colpirla Vai Jesus Prova a giocarla per Pellegrini Che prova un tiro da fuori aria Insidioso ma abbastanza facile Per Samir Andanovic Vai Jesus Molto avanzato Risharmi a prendere il pallone Per Dzeko Dzeko l'attacca per Nainkolan Che la butta in mezzo Dove c'è il Sharawi Marrononti A qui la spazza via Anche rischiando qualcosa Malintre si salva Attenzione ancora Nainkolan in mezzo per Pellegrini C'è Fazio che la tocca Pallone allontanato Nella direzione di Qua Jesus Attenzione Kolarov Pallone di Struttman Per Kolarov Cross in mezzo Abbastanza insidioso ragazzi E credo che su questo calcio d'angolo Faremo entrare De Frel Ragazzi sul da zero Credo che possiamo dare Anche una possibilità De Frel Vedremo un po' Come si comportereà in campo E soprattutto vedremo un po' Se la Roma riuscirà a portare a casa Questo risultato Che sembra già in cassaforte One Jesus Per Fazio Fazio Incredibile Controlla il pallone Fazio Allarga per Conalon Conalon con un po' Di gioco di gambe Se ne va via Anche se non del tutto Perché Peresic insiste Arriva Ai 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 Fuori gioco di Nainkolan Attenzione Escherawi Escherawi Viene contro il sotto Da dietro da Borgia Valera Ovviamente regolarmente Pallone in mezzo Per Nainkolan Che non riesce a controllarla Kolarov Butta in mezzo anche lui Per Nainkolan Ma questo giro Esce Andanovic Impresa sicura Conalon Attenzione Prende Non è vero Eder Contrastato Un ottimo Pellegrini Pellegrini che la controlla Per la Roma Cerca un filtrante Per Nainkolan Che arriva De Frel Riceve Incredibile Ragazzi Anche Gregorri E Come si chiama lui De Frel Mette a segno Un grandissimo gol E qui ragazzi Davvero c'è Calcio spettacolo Da parte della Roma Io credo Ripeto Che nella realtà Non succeda mai così Una partita Perché Credo che l'Inter Con Spalletti Abbiamo una diversa mentalità Ragazzi Quindi Ovviamente Terrà più il campo Ma se succede Meglio per me Che sono romanista Ovviamente Per gli interisti Che guardano in video Si parla sempre In campo sportivo C'è sempre la sportività In ogni mia parola Buonalon Allarga per Nainkolan Nainkolan Controlla E la butta Di tacco per Sherawi Il Sherawi la controlla E raga Qui ancora lo spavolta Ma semplicemente Per Nainkolan Semplicemente ragazzi Era molto lento Il Sherawi Si sarebbe fatto ripuntare Quindi Devo trovare un passaggio tattico Pallone Ancora in calcio d'angolo La Roma rimane in attacco Potremmo fare il gioco Tra la bandierina Ma non lo facciamo Il Sherawi la butta in mezzo Dove c'è il Gonalon Che la butta In invio dal fondo Andrà a vincere via Probabilmente adesso Arriverà il triplice fischio Dell'albito Ancora non arriva Ed ecco qui ragazzi La fine della partita La Roma vinci 3 a 0 Secondo il mio pronostico Ragazzi Vi ricordo Difficoltà esperto Quindi diciamo Sarebbe la difficoltà Normale Tra virgolette Ovviamente Questo non vuol dire nulla Ragazzi Perché è sempre un gioco Comunque Mi raccomando ragazzi Per i prossimi pronostici Lasciate un bel like Commentate il video Con il prossimo pronostico Che volete Condividete Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo Alla prossima E Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti